Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Se ne trovano tante in giro per il web, consigli, strategie, idee su come promuoversi, su come promuovere il proprio brand, i propri prodotti, i propri servizi sul mercato Beh, insomma, se ne trovano tante su come ottenere nuovi clienti Ma una perplessità che vedo emergere sovente nelle teste delle persone con le quali parlo è Sono queste strategie applicabili all'ambito B2B? Cioè, sono queste strategie applicabili da chi fa prodotti o servizi rivolti alle aziende Che non vanno direttamente sul consumatore finale, sull'utente finale Ma che vanno a fare marketing con altre aziende che a loro volta fanno marketing Quali sono i motivi di questa perplessità? Beh, prima di tutto le aziende dovrebbero essere un pochino più smalizziate dal punto di vista del marketing E quindi hanno dei modi diversi di interpretare il nostro modo di comunicare Hanno dei diversi modi di entrare all'interno della nostra strategia E poi un'azienda funziona diversamente dal cervello di una singola persona Molte volte la persona che va sul web trova un contenuto Da questo contenuto, attraverso un'emozione, entra in un coinvolgimento, in un cosiddetto engagement E poi da questo coinvolgimento decide di acquistare un prodotto o un servizio Bene, non è un modello equiparabile a quello di un'azienda Dove ci sono tanti passaggi, dove ci sono dei tempi, dei budget, dei decisori aziendali Con i quali devo dialogare che spesse volte non sono gli stessi che possono propormi all'interno dell'azienda E allora, come si struttura una strategia digitale B2B? C'è anche il problema della credibilità Molti imprenditori, responsabili marketing, hanno dei dubbi Perché molte strategie che si trovano sul web In qualche modo si levano la giacca, la cravatta Per comunicare in una maniera più personale Ma un'azienda può comunicare in maniera personale? Qual è lo specifico della comunicazione corporate Che dobbiamo imparare per essere efficaci nella comunicazione Ma al tempo stesso credibili Per non fare i pagliacci lì sul web per dirla proprio terra terra Ma conservare una credibilità, una torrevolezza Agli occhi di coloro che fino all'altro ieri sera tardi Comunicavano con noi vis-à-vis Con un certo stile, con un certo modo di relazionarsi E allora, un esempio di una strategia digitale B2B È quella che oggi ci regala Pierantonio Gallo Pierantonio Gallo è un consulente per l'internazionalizzazione Che con molta tranquillità, umiltà Nel dialogo, dopo esserci conosciuti Mi ha fatto intravedere una bellissima strategia digitale Una strategia digitale costruita con intelligenza Ed estremamente efficace Per portare i servizi ad altri business E allora andiamo a conoscere Pierantonio Gallo E a scoprire come creare una strategia digitale B2B Io ho tra le mani il tuo libro Intitolato Go Abroad Una storia e un metodo di internazionalizzazione di impresa Appunto firmato da te Parlami di questo metodo che hai creato Perché in realtà Go Abroad è un acronimo Di un vero e proprio metodo Diciamo ogni lettera corrisponde a uno step di questo metodo E mi sembra che questo libro consenta di entrare dentro questo metodo Frutto di un'esperienza però concreta Diciamo non accademica Non te lo insegno perché la teoria economica dice così Ma prendo le mie esperienze sul campo E le trasformo in una metodologia applicabile anche da altri Sì Giulio, questo è stato proprio il motivo Che mi ha spinto a scrivere questo libro Io ho iniziato a operare a livello diciamo internazionale Come manager a metà anni 90 E quindi nel periodo in cui ancora c'era una grande crescita Molte nostre aziende si sono espanse a livello internazionale in quel periodo Però mi rendevo conto Cosa che è valida ancora oggi purtroppo in molte realtà Che manca proprio un metodo per affrontare i mercati internazionali Manca alle aziende il saper compiere i passi giusti Per affrontare i mercati internazionali in modo strategico E non solo in modo opportunistico E quindi evitare tutti quegli errori e quei problemi Che operando a livello internazionale purtroppo sono all'ordine del giorno E quindi ho voluto la mia esperienza che ho fatto un po' sulla mia pelle Cercare di sistematizzarla con questo metodo Per il quale ho trovato anche questo acronimo Dove appunto la parola abroad rappresenta ogni lettera iniziale Ogni lettera della parola abroad una fase in cui si sviluppa questo metodo Che parte fondamentalmente da prima di tutto un'analisi della stessa azienda Quanto siamo strutturati Quanto la nostra organizzazione può supportare Uno sviluppo di business a livello internazionale Fino all'attività di analisi ed esplorazione dei mercati Su cui potenzialmente possiamo andare a fare business Alla scelta dei mercati che per l'azienda sono più promettenti Perché non possiamo affrontare soprattutto le piccole e medie aziende Non possono affrontare tanti nuovi mercati contemporaneamente Ma dobbiamo andare a investire le nostre risorse Su quei due, tre, quattro più promettenti per noi Fino poi a passare alla modalità di entrata Come mi organizzo, come entro nei nuovi mercati Che ho scelto importanti, che ho definito importanti per il mio business E una volta entrato nel mercato L'ultima fase del metodo Go Abroad È quello di crescere e svilupparsi nel mercato Soprattutto con lo sviluppo dei canali e delle reti distributive Che per le piccole e medie aziende B2B Direi che è la modalità principale di crescita nei diversi mercati L'affidarsi a organizzazioni locali con i quali interagire per crescere nei mercati Quindi questo è in poche parole il metodo Go Abroad E nel mio libro lo spiego agganciato a una storia di un'azienda Che proprio si trova di fronte alla necessità di dover crescere In pratica per non chiudere Dopo la grande crisi iniziata una decina di anni fa Inizia questo percorso E percorso che la porta appunto a essere meglio strutturata E a poter affrontare i mercati esteri In una maniera più strategica Quindi più organizzata Che è un po' quello che cerco di fare io Nell'aiutare i miei clienti Ecco devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dal tuo libro Perché il fatto di raccontare un metodo Spiegare un metodo attraverso una storia È molto più efficace rispetto semplicemente a fare il manuale classico Devo dire che ti ruberò questa idea per uno dei miei prossimi libri Mi piace tantissimo Perché ti sembra di leggere appunto una storia Ora poi non so il livello di aderenza alla reale esperienza O se questa esperienza che hai creato la storia di questo Elia Questo giovane Elia della sua azienda È frutto di una strazione completa Però ecco sono immagini forti Elia chiuse con forza la porta del suo ufficio E si lasciò sprofondare nella poltrona Con un sospiro di rassegnazione E queste sono le prime pagine Il primo punto in cui appare Elia Ed è anche carina l'idea Di inserire all'interno del libro Proprio con un font differente dal resto del libro Come se fosse stato scritto a mano Quelli che tu chiami appunti dal quaderno di Elia Una sorta di takeaways Di riassunto di punti chiave del capitolo Sintetizzati dal personaggio Elia Come se fossero giustamente appunti Scarabocchiati su un suo taccuino E il libro in teoria insegna Quello che tu fai nelle tue consulenze Allora io in realtà Faccio un po' l'avvocato del diavolo Perché io per primo scrivo libri Insegnando quello che spiego Nella mia attività di consulenza Attraverso la mia attività di formatore Quindi siamo nella stessa situazione Però è doveroso chiederti Ma non hai paura che poi i tuoi potenziali clienti Comprino il libro E non vengano a chiederti la consulenza? Ma guarda Giulio Per me chiaramente il libro Rappresenta il mio biglietto da visita Più importante Mi rendo conto che da quando l'ho scritto Effettivamente si è creato un volano Che altrimenti non avrei potuto creare Questa paura che dici tu assolutamente Non ce l'ho Anzi io penso che chi lo legge Magari ne trae degli spunti interessanti Può essere stimolato a voler mettere in pratica Quello che c'è scritto nel libro Per questo fornisco anche nel mio sito web Dei tools, dei files Che servono a mettere in pratica Alcune dei passaggi descritti nel libro Io faccio anche compassione Interagisco compassione con chi vuole anche un consiglio Chi vuole confrontarsi con me Su quello che io descrivo nel mio libro E sono estremamente convinto Che più si condivide E più si mettono in comune Non solo con le aziende Ma anche con altri nostri colleghi Le conoscenze, le esperienze E più ti ritorna Anche come business personale Assolutamente Volevo che lo dicessi Volevo che dicessi il libro E il mio biglietto da visitare Questa era la mia segreta speranza E hai soddisfatto questa speranza Perché in effetti Sei stato molto intelligente A creare un vero e proprio sistema Infatti ora ti chiedo Di entrare all'interno della tua strategia digitale Farci vedere Cosa c'è sotto il cofano Perché tu hai scritto questo libro Questo libro molto focalizzato Con all'interno una metodologia solida Però scritto in maniera accattivante Attraverso questo storytelling all'interno del libro Un prodotto fisico Dal quale è anche possibile capire chi sei Dal libro Nel libro c'è un online bonus tool Tu lo chiami Quindi la possibilità di passare Dal cartaceo All'online Infatti Viene spiegato che Alla fine di ogni capitolo Ci sono Dei link Per scaricare dei tool E degli strumenti Del metodo go abroad Quindi l'idea è che All'interno del tuo funnel ideale Nel momento in cui io ho Il tuo libro Posso passare Se sono uno che lo vuole sviluppare Dal libro all'online E continuare a trovare valore Ma allo stesso tempo Far segnalarmi ai tuoi occhi Perché tu vedi Che c'è il passaggio Da quelle risorse lì Dammi tutta l'immagine Generale La big picture Perché prima del libro Ci sarà sicuramente qualcosa È possibile che ci siano delle persone Che arrivano direttamente al libro Magari passando da Amazon Ma io immagino che ci sia anche Una tua attività di networking Di creazione delle relazioni E a valle del libro E degli online tool Ci sarà sicuramente uno sviluppo Quindi cosa succede dopo Come ti contattano Come sviluppi questa relazione Fammi la descrizione Della tua strategia digitale La mia strategia è chiaramente digitale Nata ancora prima del libro Perché quei tool E il metodo stesso Che io applico Il Go Abroad Esisteva già da prima Quindi già io avevo In qualche modo simulato L'interesse di possibili clienti O chi fosse interessato A questa tematica Con dei funnel Che tramite dei messaggi Su alcuni social Io uso fondamentalmente LinkedIn Perché nel B2B Ritengo sia il social Che dà i migliori risultati Quindi con dei contenuti Pubblicati su LinkedIn Sia video Sia qualche post Sia anche pubblicati In seguito ad articoli Del mio blog Io ho anche un blog Che parla di internazionalizzazione Stimolavo l'interesse A chiedere un file Che riguardava un database Sui vari mercati mondiali Che poi si poteva utilizzare Per raccogliere Ed elaborare delle informazioni Questo faceva partire Una serie di mail automatiche Che mi creavano Mi davano dei lead E dei contatti Di persone interessate A fondamentalmente L'obiettivo finale Era avere con me Un incontro Per poter parlare Liberamente Di quali potevano essere I loro obiettivi Le loro problematiche Legate all'aspetto Dell'internazionalizzazione Quindi ho adottato Diciamo Dei funnel Supportato anche da Una persona esperta Nel gestire Queste Queste tematiche Ho adottato Dei funnel Che mi hanno Veramente Portato Tanti contatti L'obiettivo finale Appunto Come ti dicevo È Un contatto Poi personale Che può concretizzarsi In un primo step Che molti gradiscono Fare Per capire meglio Il metodo Che è Fare un piccolo Workshop In azienda Su queste tematiche Coinvolgendo La loro forza vendita E poi Da lì Partono Diverse Diciamo Possibilità Di offerta Che sono anche Un po' Mirate a quelle Che sono Le esigenze Delle diverse Tipologie di aziende Quindi Per le aziende Più piccole Ho messo a punto Un'offerta Mirata Su un Supporto Diciamo Anche molto Operativo Nelle Per le loro esigenze Più operative Nell'affrontare I mercati internazionali Quindi contatto Con nuovi possibili Partner Distributori In giro per il mondo Piuttosto che La segnalazione Di gare Di appalto O di O di Sibid Che possono esserci In giro per il mondo Fino a Progetti Più Completi Dove c'è Proprio un percorso Simile a quello Descritto nel libro E dove c'è Un'interazione Anche molto Spinta Con tutta la parte Diciamo Marketing E commerciale Dell'azienda Ma sicuramente La strategia Online È stata Ed è Fondamentale Per Far conoscere E cercare Di Portare Verso Un contatto Personale Quelli che possono Essere poi I miei Interlocutori I miei Partner I miei Clienti Ci sono Stati Degli Effetti Indesiderati Ma in realtà Desiderati E positivi Del Lo sviluppare Una tua strategia Digitale Che cosa voglio dire Voglio dire che Inizialmente Quando una persona Sviluppa una strategia Digitale Lo fa per Un obiettivo Business Quindi io voglio Trovare dei nuovi clienti Oppure rendere più Efficace Il mio Processo Di vendita Facendo in modo Di non fare Chiamate a freddo Incontri a vuoto Ma Riscaldando I miei lead Delle miei potenziali clienti Con una sequenza Informativa Proprio come hai fatto tu L'incontro su LinkedIn Mi trovano online Arrivano su un articolo Del blog Gli offro La possibilità Di avere Un cosiddetto Lead magnet Un database Una calamita Che attira La loro attenzione In cambio Dell'email Attraverso l'email Li educo Fino a quando A quel punto Chi arriva alla fine È bello caldo Chi non c'è arrivato Mi avrebbe comunque Fatto perdere tempo Nel processo di vendita Non avremmo concluso niente Quindi Ottimizzo L'idea quindi È un obiettivo Di tipo business Ma Io questo L'ho notato in molti Volevo sapere Se si è Si è avuto un riscontro Anche in te Se si è manifestato Nel tuo caso Ci sono Degli effetti Secondari De un'attività digitale Cioè Quando uno va Nel mondo digitale E comincia a fare business Utilizzando il digital Come strumento di marketing Ottiene In ritorno Degli altri effetti secondari Hai avuto qualche effetto Secondario? Si Giulio Hai proprio ragione Ho avuto Tantissime tipologie Di contatti E di persone Che si sono rivolte a me Non solo per motivi Prettamente business Ma anche per Per altri Diciamo Tipologie di interessi Per esempio Ho avuto Dei contatti Con Con persone Che mi hanno consigliato Ad enti formativi O addirittura Ad università Che tengono Dei corsi Dei seminari Sull'internazionalizzazione Ma hanno chiesto Degli interventi In questo tipo Di seminari Io già svolgo Un'attività di docenza Da diversi anni Su tematiche Sia di internazionalizzazione Che di marketing Ma l'aver pubblicato E diffuso Un libro Ha molto consolidato Anche questa Diciamo Reputazione Di esperto Nel settore E quindi Anche Anche di Richieste Di scrittura Di articoli Per esempio O di interventi Per parlare Di questa tematica Cose che Io faccio Molto volentieri Perché Sono sempre stato Anche un appassionato Degli aspetti Diciamo Didattici E quindi Più che volentieri Partecipo A questo tipo Di iniziative Perfetto Quindi un impatto Su vari settori Sia sull'autorevolezza Personale Sia sulla possibilità Di avere Nuovi settori Di business Che non avevi previsto Ma dimmi un po' Una cosa Quanto tempo È stato necessario Dal momento In cui tu hai deciso Ok Comincio a trafficare Con il digital A quando Hai potuto Constatare Nei numeri Che la cosa Stava funzionando Quanto tempo È passato Eh bisogna avere pazienza Giulio Secondo la mia esperienza E tu lo sai meglio di me Nel mio caso Io cerco di pubblicare Su vari Vari canali digitali Ho un podcast Ho un blog Pubblico su LinkedIn Un po' meno su Instagram Ma insomma uso diversi mezzi E direi che i primi risultati Ho cominciato a vederli Dopo almeno 6-8 mesi Con la pazienza Con la pazienza però Posso confermare Che i risultati si vedono Perché ho avuto Più di una volta La piacevole sorpresa Di incontrare persone Che io personalmente Non conoscevano Ma che già conoscevano me Perché avevano In qualche modo Erano entrati in contatto Con i miei contenuti E questo E questo È molto È molto gratificante Perché ti fa capire Insomma Che stai facendo Un buon lavoro Dai un consiglio Al volo A chi si trova Come te All'inizio Come te un tempo All'inizio Sì Il desiderio Di sviluppare il proprio business Utilizzando il digital E che ha delle perplessità Dei dubbi Ma ce la farò Non ce la farò Lo faccio tutto da solo Mi faccio aiutare da qualcuno Qual è il consiglio Più prezioso Che puoi dare A una persona Che vuole iniziare A utilizzare il digital Come strumento Per fare meglio Il proprio business Ma allora Giulio Io mi richiamerei A quello che abbiamo detto prima Non bisogna avere timore Che ti rubino le idee O che addirittura Se ne appropriino Senza poi Che tu ne abbia un ritorno Questo magari Può anche succedere Che sicuramente Più di qualcuno Si trova già A giovamento In quello che fai In quello che pubblichi Ma io ritengo Che il fornire contenuti Fornire informazioni Fornire metodo Come nel mio caso Su un qualcosa Che può essere utile E che può anche in se stesso Senza che si trasformi In un'attività di consulenza Nel mio caso Questo è alla base Di un'attività social Che poi Nel tempo Se fatta con Costanza Con Con continuità Sicuramente Fornisce dei risultati E bisogna avere La pazienza E non scoraggiarsi Dopo Dopo pochi mesi Perché i risultati Poi arrivano Arrivano E Io vedo Che stanno arrivando Sempre Sempre di più Sempre Anche da un punto di vista Proprio Diciamo Di soddisfazione Personale Avere Da tante persone L'apprezzamento Che quello che fai È utile Per loro E io A me piace tantissimo Quando mi contattano Mi chiamano Ragazzi giovani Che Magari stanno iniziando A il loro lavoro Di export manager Di marketing manager E quindi Su queste cose qua Hanno fame Di capire Nella realtà Come funzionano le cose Non solo Leggere La teoria Sui libri E a me piace tantissimo Quando queste persone Questi ragazzi Mi contattano E mi chiedono Un parere Mi chiedono Un consiglio Ecco Io questo Suggerisco Non avere paura Di fornire Informazioni Di fornire Contenuti utili Perché Solo se Fai così Ne hai poi Un ritorno Siamo arrivati Alla fine Di questo episodio E io sono particolarmente Contento Perché credo Che Pierantonio Possa essere Un ottimo esempio Per molti di noi In qualche modo Quando andiamo Ad apprendere E a copiare A ispirarci Alle strategie Di chi fa Formazione Nell'ambito del marketing E la strategia digitale C'è sempre un po' Un pericolo Che Quello che impariamo Da un ambito Non sia applicabile Al nostro ambito Per questo Credo sia importante Avere delle persone Dei pari Ai quali ispirarci Delle persone Che sono anche loro All'interno Del nostro stesso business E che Facendo la nostra Stessa attività Hanno già provato Sul mercato L'efficacia Di una loro strategia E questo è il motivo In definitiva Per cui Per esempio Faccio parte Di un mastermind Un mastermind Ti consente Di camminare Insieme a degli altri Compagni di viaggio Che non siano Maestri Cioè che non ti dicano Ah io ti insegno Il metodo Ma che siano Veri e propri compagni Di viaggio E ti dicano Io ho imparato questo Nella mia esperienza E forse è applicabile Anche al tuo contesto Facciamo tesoro Di quello Che ci ha trasmesso Piero Antonio Perché è stato Anche generosissimo Nel condividere Il dietro le quinte Della sua attività Metto il link Al suo libro I suoi riferimenti Nelle note Dell'episodio In modo che possiate Anche contattarlo Se volete Ulteriori approfondimenti Sono sicuro Che ci risentiremo Noi avevamo preparato Tutto un altro tema Per questa intervista Vorremmo parlare Della Cina Ma poi Una cosa tira l'altra E abbiamo potuto Esplorare Il backstage Della strategia Di Pierantonio Grazie di cuore Pierantonio Per aver creato valore Per la community Di strategia digitale Grazie di cuore A tutti i finanziatori Di strategia digitale Voglio in particolare Ringraziare Alcuni che ultimamente Si sono uniti Alla nostra community Alessandro Bianconi Mio amico Di vecchia data Il quale Ha sempre affezionato A strategia digitale Dopo averlo sempre supportato Attraverso incoraggiamenti Feedback È entrato a far parte Della community Con un finanziamento Da un dollaro al mese Giuseppe Mallamaci Che supporta Strategia digitale Con 3 dollari al mese Giuseppe Non ci conosciamo ancora Ma grazie a questa tua Entrata nella community Presto entreremo in contatto E potrai raccontarci Il tuo progetto Dove ce lo racconta? Beh sul canale Preferenziale Per seguire Le attività di strategia digitale Che è Telegram Telegram.me Slash Strategia digitale Tutti questi link Le indicazioni su come supportare La community Non solo con un finanziamento Anche con una recensione O facendo conoscere Ai tuoi amici Il progetto Strategia digitale Le trovi tutte Su strategia Digitale.info E quindi grazie anche A Odra Bertolone Quo autrice del podcast Al nostro fonico Costanza Mineo E a radiospeaker.it Per il sound design Ragazzi grazie mille a tutti E alla prossima Strategia digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori E professionisti E appassionati di web marketing E business online E business online A cura di Giulio Gaudiano